1 No, no, rifacciamo 5, 4, 3, 2, 1 Come era, anche se hai scattato tutto da una parte? No, 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 va benissimo Ti sto patinando col plettro È finita E questo l'ho fatto con la punta e l'altro l'ho facendo Vabbè dai, secondo voi? Allora, a me è piaciuto È molto particolare ho scritto così Sembra Si devono fare un'altra malattina di centinaia It's been awesome, thank you Bravo